Può un lato B diventare trend topic su Twitter? Sì, si appartiene alla fidanzata di uno dei One Direction. Questo è ciò che è accaduto alla povera Sofia Smith. Un profilo Twitter dedicato alla ragazza, ha pubblicato alcune foto che dei paparazzi hanno scattato a Sofia e al suo fidanzato Liam Payne mentre si trovavano a bordo di uno yacht. I due fidanzatini, si trovano in vacanza a Centrope in compagnia di alcuni amici. Liam Payne tira sugli slip a Sofia Smith e il suo lato B diventa trend topic. Il cantante dei One Direction non riesce a stare fermo un attimo. Insieme alla sua fidanzata, prende il sole, fa un tuffo, poi torna ad abbracciarla. Sofia indossa un costume striminzito, così Liam ha la brillante idea di tirarle sugli slip, per farle uno scherzo. La foto fa il giro della rete e in un attimo il lato B della Smith diventa trend topic. Purtroppo, però, non in un'accezione positiva. L'hashtag dedicato alla fidanzatina di Liam, infatti, è il culmo show di Sofia. La reazione delle fan dei One Direction. Ovviamente le reazioni sono state contrastanti. Accanto a chi ha colto l'occasione per deridere la ragazza, c'è stato chi invece ha trovato di pessimo gusto scagliarsi contro una giovane, solo perché è la compagna del proprio Beniamino. Lo scherzo di Liam Payne alle fan dei One Direction sembra proprio che alcune fan del cantante abbiano voluto ricambiare lo scherzetto ricevuto nei giorni scorsi. Liam Payne, infatti, ha pensato di prendersi bonariamente gioco delle Directioner, pubblicando una foto in cui era apparentemente nudo, con le parti intime debitamente censurate. Solo dopo diverse ore e una valanga di commenti, il cantante si è deciso a pubblicare la foto originale, dimostrando che in realtà ha sempre avuto addosso il costume. Chi se ne frega!